ciao a tutti ciao ragazzi ditemi bentornato e vi dico grazie quando è successo lolo canna quando è successo quando è successo la notte scorsa la notte scorsa la notte scorsa bixi come dire ieri notte la notte scorsa sto arrivando ma i nidi no sai forne che sto arrivando ma i nidi no sto arrivando sto andando ma sai forne che sto andando ma i nidi di dem sto andando sto andando sto parlando al telefono da ma io a te la foto sto parlando al telefono chante go man li wo bobleg sto parlando al telefono da ma io a te la foto lo sto facendo man koi def li ma l'ho honga def ko bobleg defo go lo sto facendo lo sto facendo lo sto facendo ma i nidi dico defo man koi defo vien de treze attenzioni qui aussi sto binone e isto non è a sto 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 camminando mangi d'or de mono waxi denier d'oroio sto camminando sto camminando mangi d'or de porta mangi d'or sto mangiando sto mangiando da ma il lec sto mangiando da ma il sto dormendo sto aspettando cosa stai facendo? lo è definito? lo è definito? cosa stai facendo? ah, sai, ti lo è definito? se no, cosa stai facendo? lo è definito? cosa stai facendo? che sta dicendo? che sta dicendo? lo mi va? lo mi va? se no, che sta dicendo? ma che non mi va? che sta dicendo? lo stiamo cercando lo stiamo cercando non ci sono non ci sono non ci sono lo stiamo cercando non ci sono lo stiamo cercando state tranquilli state non ci sono che state tranquilli non ci sono tranquilli 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 ma notte occupando manco e occupi by cosa malo occupando la barbie pour trouver que tu ho la frau noma di affetto soli caramingue in binocchi commenti moi occupa da non sarai coca e bike usama l'orec minast occupando non normal gérer come non la foflaire qua menesto occupando menesto occupando by questo malo ma poi gérer sto il verbo stare moini indiano fofi e don io sto che io lo soffè che che nel tu stai che ne dia carlo lui o la lei sta noi stiamo voi state loro stanno io sto lavorando domenica tu stai dormendo lui sta parlando ma daewa eccetera con il manco di angeli non voglia mi piace il cibo picante 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 circa un anno circa un anno lo ramat att quando è successo lo canone sa canale ca ne le creo circa un anno lo toliti atto lo ramat atto orna marat atto bule tiner di fire coco sulla tiner ecco circa un anno circa due ore fa non lo toliti neari ore esatto sbrigati 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 gawal sbrigati sbrigati gawal sbrigati gawal gawal sbrigati gawal voglio okay ragaz da roma nord come lo sai come lo sai non cosa mai non è più semplice non sempre non come lo sai come lo sai come lo sai non cosa mai nel giro di una settimana 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 l'utolo chi aiubi come dire circa una settimana con circa un anno di un giorno Non possiamo farlo ora Non posso farlo ora Ciao CT Non posso farlo ora Non posso farlo ora ora posso aiutarti? posso aiutarti? posso aiutarti? posso aiutarti? sono molto affidabile sono molto affidabili quindi tranquillo sono molto affidabili sono molto affidabili ma qui c'è questo, ma ogni scomanda di essere qui, il creare e che ci sono che si chiama, sono affidabili